I rapporti provenienti da tutto il mondo mostrano che la sottocupazione e la disoccupazione sono elevate tra le persone con disabilità e all'interno delle comunità sorde. L'Italia non fa eccezione. Nel nostro Paese, tra le persone di 15-64 anni con disabilità grave, gli occupati sono un terzo, ossia la metà rispetto alla popolazione senza disabilità, e le famiglie in cui sono presenti persone con disabilità hanno un reddito annuo equivalente medio inferiore del 7,8% a quello nazionale. La situazione si fa ancora più grave per le persone sorde. A più di 20 anni dalla legge 68, quella sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, le condizioni di vita delle persone sorde non sono migliorate in termini occupazionali e l'esclusione dal mondo del lavoro resta una delle principali cause di svantaggio, disuguaglianze e marginalità. È per questo che ci battiamo affinché una minima quota dei posti delle quote riservate dalla legge alle categorie protette sia riservata specificamente alle persone sorde, l'1%. È necessario un cambiamento culturale di passo che accolga e valorizzi la diversità e garantisca finalmente il pieno diritto al lavoro di tutte le persone sorde, con tutto quanto questo comporta in termini di autonomia, indipendenza e autodeterminazione.